Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo Pillole, dove parliamo di caricatori a tamburo per le vostre pistole a green gas. Una simpatica e rapida alternativa all'HPA. Sigla! Quello che avete qui davanti è un caricatore a tamburo da 350 colpi, quindi un bel cazzillo, a green gas, che andate a caricare direttamente grazie a questa valvolina qua sotto, che è compatibile con la maggior parte delle vostre pistole a green gas. Soprattutto sono VE. È infatti prodotto dalla VE. Troviamo il bel logone qua dietro. Devo dire che i loghetti verdi mi piacciono, perché, non lo so, gli dà un senso simpatico. È bello compatto, mi piace, e la cosa molto figa di questo affare è che potete montarlo sulla vostra pistola, vi scarica per caricarlo completamente un quarto di bambola grossa di green gas, ma non ghiaccia la vostra pistola. Cosa significa? Che quando lo andate a inserire nella vostra pistola e andate a sparare, la decompressione del gas non avviene in alto dalla pistola, ma avviene dentro questo bel cipardone qua. Quindi quando lo andate a inserire, dopo che andate a sparare, la pistola non vi si ghiaccia. Questa è una cosa molto interessante. Non è monofilare, quindi non abbiamo una molla con all'interno caricati 350 pallini, ma dobbiamo andare a girare questo bel rotellone quando stiamo sparando, prima di arrivare alla fine dei colpi, come nei maggiorati normali, andiamo a caricare questo affare. Sono presenti per la maggior parte delle pistole, questo che vedete ha un caricatore attaccato per 1911, ce n'è un altro qui per Beretta, c'è per Glock, c'è per tutte le vostre pistole più adorate. Quello che vi ho detto all'inizio del video è vero, sono una simpatica e rapida alternativa a una pistola HPA, che avrete sicuramente visto, tanti modi, e vi permette di evitare di andare a mettere un sistema HPA, quindi girare con la bombola, ma avere questo simpatico e compatto sistema direttamente qui. Chiaro che si può trasformare anche questo in HPA, però, nel senso, l'HPA alla fine la vince, la sapete sempre questa cosa. Simpatico, divertente, pregevole, costa anche relativamente poco, trovate il link in descrizione. Se siete interessati a saperne di più, vi aspetto qui nei commenti per discutere e disquisire della cosa. Vi ricordo che in descrizione, oltre al link per questo bambinone, trovate anche i link del Monopoly Software Shop e sia del mio che del link del negozio, che è sempre il Monopoly Software Shop, negozio che mi sponsorizza, e mi rende possibile fare tutti questi incredibili video. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo sabato con una nuova incredibile recensione. Stay hungry!